Un nuovo santo è sicuramente asceso al cielo, il suo nome San Luigi Sepe da Torre del Greco. Avranno già creato santini e statuette a San Gregorio Armeno, ne sono convinto perché dopo la partita di oggi dobbiamo per forza santificarlo e onorarlo nel giorno dell'immacolata concezione e non sto esagerando. No, questa non è un'esagerazione ragazzi, perché ha fatto oggi delle cose incredibili ragazzi. Oggi Sepe mostruoso, oggi Sepe mi ha fatto addirittura veramente accapponare la pelle dall'emozione perché ero lì sul divano a guardare la partita, non solo il calcio di rigore che ne andremo a parlare in maniera molto specifica qua nel post partita, ma anche nella parata su Collei. Cosa ha fatto? Mamma mia, cosa fa? Allora, partiamo con ordine. Dobbiamo parlare della partita Sampdoria Parma terminata col punteggio di 1-0 ragazzi. Brutti. Parma brutto, 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 l'ho già detto brutto? Sì, brutto ma cinico. E cioè siamo stati la fotocopia del Parma dell'anno scorso. Uguali, identici, eravamo così, brutti, proprio perché da guardare era meglio fare zapping e guardare la d'Urso piuttosto che guardare quel Parma. Ecco, eravamo così oggi in questa partita, certo. Tanti di voi mi saranno dicendo, e anche io da solo me lo dico, e cioè eravamo un Parma comunque anche oggi in netta difficoltà dal punto di vista numerico. Ci mancano tutti, ci mancano l'inglese, ci manca Caramò, ci mancano ovviamente i giocatori in forma come Cornelius che oggi tornava un po' titubante, eppure ha giocato anche abbastanza bene. Ci manca il Gervigno, che insomma lo conosciamo, far cose diversamente diverse, ecco, rispetto a come le sta giocando nell'ultimo periodo perché fisicamente si vede che non sta bene. Ci manca anche addirittura un Kulusevski, che sono due partite che è abbastanza riconoscibile, addirittura è stato anche tolto a dieci minuti dal termine. Si vede che deve avere dei problemi, anche lui non è in grandissima forma. Abbiamo comunque, lo sappiamo, dei problemi a centrocampo sostanziosi. Ci manca Scozzarella, l'abbiamo parlato da ormai tre partite a questa parte, che Scozzarella per noi è imprescindibile. Sappiamo delle difficoltà del Parma, ecco. Oggi sono arrivate queste difficoltà, a parte nei primi dieci minuti, che mi è sembrato un Parma abbastanza pimpante, al gol, ragazzi, esattamente come da qualche partita a questa parte, al gol, chiuso, Baratka e Burattini, ci siamo chiusi in difesa, non abbiamo messo un autobus, non abbiamo messo un treno, no, abbiamo messo praticamente tutta la città di Parma lì in difesa, bloccati, cercando di evitare che i giocatori della Sampdoria potessero arrivare a fare un'azione decente, eppure ne hanno avute, ne hanno avute veramente di ghiotte, e lì mi viene da chiedere, cugini della Samp, che siamo praticamente una cosa sola, Parma e Sampdoria, siete nel tifo, cioè noi tifiamo voi, voi tifate noi, è bellissimo, un tifo straordinario, è proprio per questo, mi dispiace per voi, per questa sconfitta che secondo me è per voi, è meritatissima, la nostra vittoria è meritatissima, lo sappiamo, ma il calcio è questo, no? Fa, vince la partita non chi gioca meglio, ma chi la butta dentro più volte, ok? E mi viene da chiedere, ma fate qualcosa per questa sfortuna, cioè voi non state in quella posizione di classifica perché siete scarsi, voi siete in quella posizione di classifica perché siete una sfiga addosso, incredibile, andate da qualche esorcista, andate da qualcuno a farvi vedere, non so che per chi, per quale religione voi siate, per quale religione crediate, andate da qualcuno che si occupi di questa sfortuna perché veramente è una cosa incredibile, oggi è stato l'emblema, cioè calciate, punizioni con Gabbiadini da 40 metri, una punizione bellissima, bellissima, veramente, traversa, traversa, con Seppi che addirittura per l'unica volta che l'ho visto un po' titubante l'aveva battezzata fuori, boh, fuori a posto, bam, traversa che sta ancora vibrando adesso, tiro fantastico con i Gabbiadini, arrivate con Collei, addirittura dici Collei, cosa ci fa Collei lì? Dalla difesa in attacco, un'azione bellissima, tira, Seppi che fa il paratone, avete un calcio di rigore, finalmente per voi, calcio di rigore, Quagliarella, ma quando mai Quagliarella sbaglia un calcio di rigore? Ero già lì dicendo, ecco, boh, è andata, ha un'altra partita da aver sputtanato tre punti d'oro, Quagliarella tira, Quagliarella che sbaglia il rigore con Seppi che fa un paratone incredibile, io, che cosa? No, in quell'istante arriva, poi credo fosse Yankton, Yankton, non mi ricordo, che ridare il pallone in mezzo, di nuovo per Quagliarella che tira, segna, dico, ecco, porca miseria, vabbè, ci sta, dai, stavo sperando per il rigore parato, invece, no, invece no, invece di io, Yankton era partito appena prima che Quagliarella terminasse di battere il calcio di rigore, quindi rigore annullato, quindi con il gol vi è stato, cioè, no, il rigore annullato, gol annullato, perché il rigore c'era, e quindi niente, sfiga su sfiga su sfiga, avete praticamente attaccato per tutta la partita, a parte i primi dieci minuti, sì, potevate attaccare meglio, è vero, perché eravate molto lenti, avevate un gioco poco pimpante, se non per tre, quattro azioni che ho visto decenni, tipo quella di Murro nel primo tempo, e poi anche nel secondo tempo qualcosa di interessante c'è stato, sì, ma poco concreti, ecco, diversamente dal Parma che ha fatto una sola azione, cioè non è che ne abbiamo fatte dicifie, no, aspetta, no, una sola azione no, una balla, abbiamo fatto una sola azione decente dove abbiamo tirato in porta effettivamente, cioè il tiro, appunto il colpo di testa di Cusca per il gol, bellissimo, non ho mai visto un gol del Parma su calcio d'angolo, finalmente lo vedo, sono andato in estasi, in brodo di Giugio, le dico tanta roba, no, il gol del Parma su calcio d'angolo, cosa sta succedendo? Poi anche noi abbiamo fatto delle cose assurde, perché siamo il Parma, è normale, no, non saremmo il Parma, se no veramente fantastico, per la terza partita consecutiva arriviamo sotto porta, dopo essere o in vantaggio, comunque stiamo attaccando praticamente sempre noi, sottovalutiamo l'avversario, chissà cosa ci entra nella testa, facciamo le fighettine sotto porta e non calciamo decentemente in porta, iniziamo a fare i tocchettini, i passettini, proviamo a passare il pallone, non capendo che la cosa migliore da fare in quel momento è calciare, o facciamo dei passaggi, arriviamo proprio a fare l'ultimo passaggio sotto porta, osceno, inguardabile, vedi appunto Germinio in un paio di occasioni, ed è così appunto che non concludi, non riesci a chiudere la partita segnando il secondo gol, cosa che dobbiamo migliorare assolutamente, dobbiamo chiudere quella cavolo di partita subito, subito, così non ce n'è, partita col Bologna, Docet, e invece no, continuiamo a imperderiti nella stessa situazione, a fare le fighette là davanti, non riusciamo a segnare, e abbiamo rischiato, abbiamo rischiato davvero tanto, è soltanto Kulovic, che ha giocato per noi quest'oggi, non solo Kulusevski e Kuczka, anche Kulovic praticamente ha giocato per noi in quella partita qua, siamo riusciti a ottenere tre punti Toro, Doro, come dice un noto youtuber napoletano, Don Ron, veramente Don Ron, perché ragazzi, parliamoci chiaro, un Parma 21 punti, quindi a meno 19 dalla salvezza, praticamente alla prossima ci sarà uno scontro diretto col Napoli al settimo posto in classifica, chi se lo sarebbe mai immaginato nella girone d'andata, non pensavo che partissimo di nuovo molto bene, esattamente come l'anno scorso, di trovo forse anche meglio, e avremmo potuto fare anche meglio di come stiamo in questo momento, se avessimo avuto tutti gli uomini disponibili, purtroppo anche noi abbiamo avuto un po' di sfortune, non dal punto di vista della partita, ma per quanto riguarda il discorso infortunati, speriamo di recuperarli il prima possibile, continuo a dirlo, ma si fortunano a raffiga, Kuczka si è fatto male anche lui adesso, si è fatto male pure Kuczka, sta partita ragazzi, incredibile, tanto con Fagol fa la capriola, D'Aversa che gli dice se ti fai male dopo sta capriola, veramente guarda, non so cosa ti faccio e puntualmente si è fatto male, non so se per la capriola o per altro, ma se non sentite più parlare di Kuczka o di D'Aversa, dipende chi dei due riesce a sopravvivere alla cosa, sapete il perché, ecco. A parte tutto ragazzi, non mi è piaciuto questo parma, si vede che non mi è piaciuto, l'importante però lo sappiamo che è ottenere i tre punti e siamo contenti tutti in questo modo, l'importante sono i tre punti, però mi preoccupa, mi preoccupa tanto maggiormente per la partita prossima contro il Napoli, perché noi siamo molto, ma molto bravi a resuscitare i morti e con tutto rispetto per il Napoli ovviamente, siamo veramente molto bravi a fare questa cosa, contrariamente magari del genio della Lampada, di Aladin, eccetera, siamo molto bravi in questo e quindi ho molta paura che il Napoli possa resuscitare proprio con noi, speriamo veramente perché tutto dipende dalla mentalità con cui usceremo in campo contro il Napoli, tutto dipenderà da come scenderemo in campo, perché se scenderemo in campo per dire, oh, questi sono in difficoltà, noi se giochiamo decentemente portiamo a casa anche almeno un punto, ma possiamo addirittura arrivare a vincere la sta partita, dobbiamo soltanto crederci, speriamo di recuperare più gente possibile, un Cornelius che possa giocare tutti i 90 minuti, Gervinio che faccia la partita della vita come può fare spesso, Grassi che può tornare, Cucca speriamo che non sia niente di grave, Scozzarella che possa finalmente tornare tra noi, e lì le cose possono cambiare, ma se iniziamo ad andare a Napoli, pensando già, ma sì, proviamoci, catenaccio, magari con un contropiede riusciamo a farne uno, invece no, ci assaltano, manco veramente ci fosse la cavalleria inglese o che so io, e allora fa sì che facciamo come gli altri anni e la cosa direi che potrebbe andare decisamente male, speriamo di no, speriamo possano andare a Napoli con una mentalità giusta, cioè la mentalità di quelli che vogliono superare il Napoli, non guardarsi dietro da quelli che possono arrivare ad eguagliare a quel punteggio del Parma in questo momento. Boh, raga, sono contento, sono molto contento, mi dispiace veramente tanto per la Samp, una vittoria che secondo me serve tanto per i punti e serve tanto per il morale. Stringiamo le dita, speriamo che non si è fatto male Cucca, speriamo di recuperare il prima possibile gli infortunati e vediamo che cosa succede a Napoli. Un saluto, ciao Papirus e forza Parma, daje!